Un gemellaggio tra scuole elementari del Senegal e del Piemonte consolidato negli anni che favorisce lo scambio culturale tra realtà diverse. Questo è l'obiettivo del progetto sull'infante ideato dalla comunità Impegno Servizio Volontario, l'organizzazione non governativa torinese che ha messo in contatto la regione con la città di Luga, dove abbiamo portato le nostre telecamere per raccontare una storia di cooperazione e amicizia tra popoli. Siamo andati con gli operatori dell'ONG che lavorano in Senegal a farrare con i presidi di quattro scuole pubbliche. Le risposte sono state positive, tutti gli istituti hanno dato la loro adesione. In Italia i dirigenti scolastici avevano già dato l'ok per l'anno in corso. L'idea che prevede lo scambio di lettere e materiale fotografico si è evoluta rispetto alle esperienze degli anni precedenti. Se fino al 2008 gli scambi di materiale tra istituti avvenivano tra classi omologhe, adesso si è deciso di avviare i collegamenti tra le scuole. Questo per ovviare la diversa composizione numerica delle classi che in Senegal è superiore rispetto all'Italia. Qui infatti un'aula può arrivare a ospitare fino a 50 alunni, mentre nel nostro paese difficilmente si arriva a 30 bambini.